Ecco il vostro re! Lo ci vigilo, lo ci vigilo, lo ci vigilo! Dovrò il cosidificio, il vostro re? Noi non abbiamo altro re che Cesare. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Me ne lavo le mani. Ma pensateci voi, il tuo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora che sia scritto che Gesù di Nazareth è colpevole di addimento per essersi proclamato re dei giudei, sarà condannato ad essere cocifisto. Averne Gesù le carni tutte lacerate da frangelli. La testa coronata di spine ed aveva sparsa gran copia, onde stava così debole che poteva appena camminare. Ma i soldati gli davano spinti. Gesù non ne poté più. Venne meno e canti. Ehi, Simone! Ehi, Simone! Donna del paradiso, Gesù Cristo beato, tuo figlio è stato preso. Accorri, oh donna, e vedi che la gente l'ha per fuori. Credo che lo si uccida, tanto l'hanno flagellato. Signora, accorri, tuo figlio è stato preso. Giuda, Giuda lo ha tradito. E per 30 denari, Gesù, soccorri, ma Valera. Mi è giunta all'osso per il dolore. Che culo è giro, non mi faccio. Sì, ma sta facciando. Il nostro bisognero, come mi hanno annunziato. L'ultimo atto della più grande tragedia è la storia. La crocefissione e la morte di un Dio. La sentenza è stata data e non resta che seguita. Verso le 10 del mattino, Gesù arriva sul luogo del martino. I soldati lo scuogliano dai suoi vestiti e con lui i latroni. I soldati lo scuogliano dai suoi vestiti e con lui i latroni. I soldati lo scuogliano dai suoi vestiti e con lui i latroni.